Siamo in un momento in cui c'è una grandissima crisi economica nonostante il nostro Presidente del Consiglio di Calopposto in cui gli italiani hanno bisogno di soldi per poter andare avanti, hanno bisogno di interventi importanti per rilanciare l'economia e l'unica cosa che sono in grado di fare è aiutare le banche degli amici degli amici degli amici, in particolar modo del papà della Ministra che ieri era anche assente dal Consiglio dei Ministri. Quindi ancora una volta il Presidente Renzi si dimostra amico dei soliti noti, non degli italiani e di conseguenza noi come Lega Nord vogliamo dimostrare per l'ennesima volta che questa politica dissennata di questo governo deve essere combattuta. Noi la pensiamo totalmente in modo diverso da Renzi.